Ho venduto il DAX, quindi in questo video andiamo a vedere cosa sta facendo il mercato, come si sta muovendo la mia posizione, magari quali sono le mie intenzioni e soprattutto gli scenari, lo scenario che può andare a far fallire a questo punto il mio trade o lo scenario che può far avanzare il mio progetto di trading. Ben ritrovato in questo appuntamento settimanale, io sono Damiano Zito, Price Action Trader Indipendente, questa è Professioni Trader, la rubrica dove ogni settimana vado a mostrare la mia operatività su un conto di trading reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperenziale del percorso di accademia che ho intrapreso qui in Earforex. Se già mi conosci bene, altrimenti sappi che io sono anche un collaboratore di questa community. Bene, io ho aperto in questo momento il grafico, quindi la piattaforma del conto CFD che sto utilizzando appunto come fase esperenziale del mio percorso in Earforex e in questo momento ho la posizione aperta con almeno 60 euro, un mercato praticamente che ho deciso di vendere proprio martedì scorso mentre registravo l'episodio precedente di Professioni Trader, un mercato che è andato giù ed è ritornato adesso, dopo una leggera forza, sui 16.750. Però prima di proseguire vediamo un attimo quindi questa posizione sul diario di trading che ho qui già aperto, il diario di trading che è su gennaio, chiaramente siamo a gennaio 2024, mostra al momento una sola posizione che è la posizione che ho in atto, la posizione appunto sul DAX che ho aperto sul livello di 16.530 in realtà e 29.90 insomma è il livello di ingresso. Ho investito 250 euro su questo trade con uno stop che non è uno stop classico, mi sono posizionato a 17.030 punti, sopra i massimi storici che ha registrato il mercato. Ho un target in realtà, è un livello target questo molto ampio alla fine, probabilmente prenderò profitto prima, non ha senso per me essere, come dire, attaccato a questo target, nel senso che può andare lì ma non è mandatorio ecco per questo trade. Quindi sono entrato con 0.5 CFD mini, quindi un controvalore che è pari alla metà del valore che aveva il mercato nel momento in cui ho fatto l'ingresso. Ok, ho probabilmente scritto qualcosina, si ingresso at market in zona rottura del trigger, in realtà il trigger daily. Quindi voglio andare adesso sul grafico, ma dalla piattaforma passo alla ProRealTime, insomma la piattaforma DG passa alla ProRealTime, molto più comoda per fare le analisi. Quindi questo è il grafico del DAX, qui si può vedere anche la posizione che ho in corso, stessa posizione chiaramente, quindi 0.5 mini venduti con lo stop a 17.030, quindi uno stop in questa zona qui. Ok, qui si vede anche l'ingresso, possiamo andare a vedere sul giornaliero, esatto, proprio il 16 gennaio ho fatto l'ingresso su short, su questo livello. Bene, allora, l'operazione da dove viene? L'abbiamo visto nello scorso video, viene da uno studio, da un progetto che in realtà, ha un ragionamento che dura giorni, settimane, che ho provato poi a condensare nello scorso video, dove se non l'hai visto ti invito a andare a vedere come poi eventualmente ho ripercorso le fasi, anche di quella che è la checklist del metodo, fondamentalmente, per andare a valutare un ingresso. È una checklist piuttosto completa per analizzare con neutralità, diciamo, quello che è un mercato di là dei trigger operativi. Il trigger in questo caso, quindi questa struttura settimanale, quindi l'ho analizzata, però l'andiamo a rivedere, quindi è una... questo è il DAX, è una struttura sicuramente long, non ci sono dubbi su questo, che arriva su questa zona di massimi, fa dei massimi storici, e sta ormai congestionando da tempo. Che cosa succede? Succede adesso che il mercato, nel momento in cui ha, diciamo, fornito questa indicazione di prezzo, ha avuto una settimana di congestione e poi durante la scorsa settimana aveva creato questa informazione, poi ulteriore informazione operativa con falsa rottura dei 6.800, che era il, diciamo, doppio massimo, inside fake out, che mi ha fatto decidere di entrare al mercato. In realtà io volevo entrare qui, però insomma il mercato è venuto subito giù, e ho atteso un po', atteso un po', insomma ci sono sempre nuove occasioni sul mercato, insomma non è che non ci siano. In questo caso io quindi sono entrato dopo il video, sono entrato praticamente at market, e andiamo a vedere un po' il 6 ore, perché insomma voglio ripercorrere un po' quel momento, che cosa è successo? Io quando registravo ci trovavamo qui, quindi durante la formazione di questa, di questa candela a 6 ore, cioè il mercato dalle 7 del mattino stava recuperando, però effettivamente stava, cioè stava venendo da questa fase short, e questa mi, anche se poteva portare un po' più su, ho voluto un attimino attendere, quindi ho atteso la chiusura alle 13, di questa candela, e durante, poco prima della sessione americana, in realtà poi ho deciso di vendere, quando il mercato è tornato in debolezza sotto questi livelli, quindi sotto l'apertura, diciamo, del 6 ore, insomma, mi era piaciuto il fatto che, insomma, potesse, potesse andare direttamente giù il mercato, l'ha fatto poi nelle ore successive, effettivamente è stato così, e vediamolo sul daily, lì il mercato è andato giù, mercoledì praticamente è andato, praticamente in zona 16.350, che ritorno un attimino, su una via un po' più ampia, quindi magari andiamo sul settimanale, è proprio questa zona di, dove c'erano appunto queste chiusure, ma soprattutto questo, quest'ultimo massimo weekly, che poi è stato rotto, che è stato adesso ancora tenuto, tutta questa zona qui, è ancora, come dire, una fascia dove effettivamente il prezzo poteva, ed era, insomma, abbastanza tenuto in considerazione da me, che poteva qui rimbalzare, però sempre con l'idea che c'è questa zona, dei 16.800 punti, che è la zona che non voglio vedere più violata al rialzo. Se andiamo a vedere poi la dinamica nel breve, quindi che cosa sta succedendo? Il mercato, effettivamente in questa, questa diciamo struttura, questa diciamo congestione sui massimi, il mercato sta facendo questo, qui aveva dato un'indicazione, ha fatto un ritracciamento fino ai 16.8, anche qui nuova indicazione short, ritracciamento, o meglio, movimento e ritracciamento, almeno questo al momento sembra un ritracciamento, e rimaniamo ancora sotto i 16.800, tutta questa fascia qui, ma soprattutto proprio il livello tondo è molto, molto importante. al momento non ho fatto niente sull'operazione, nel senso che io sono entrato al mercato, ho deciso il mio investimento, e la zona dove eventualmente poi, se dovesse, diciamo, tornare al mercato rialzo, dove eventualmente chiudere, chiudere in anticipo, o comunque dove eventualmente proprio andrà, proprio a chiudersi, in maniera definitiva la mia posizione, non dovesse effettivamente fare interventi, diciamo, gestioni del mio trade. Vediamo adesso cosa può succedere, sicuramente dopo queste candele di, per quanto mi guarda al momento, sono solo un ritracciamento abbastanza analogo, rispetto a questo che è avvenuto, nelle prime giornate di gennaio, mi interessa capire se qui effettivamente il mercato è debole, c'è intenzione di tornare giù, magari sarebbe molto bello tornare sotto 16,6, questo è quello che, insomma, per il mio progetto sarebbe molto interessante, però, insomma, bisogna attendere il daily, che cosa può succedere, che invece potrebbe invalidare il mio, il mio progetto, dovesse verificarsi, diciamo, oggi, per esempio, una volatilità del genere, prendo questa candela qui, e da qui, trovarci a 16,9, ok, ecco che, insomma, la situazione sarebbe un pochettino diversa, perché io mi ritroverei in chiusura, con una cosa del genere, con una candela del genere, quindi, una continuazione di forza long su questo mercato, che mi va a rompere questo massimo, che mi va a chiudere sopra il 16,8, che qui è chiaramente un livello ormai più volte rifiutato dal prezzo, andrebbe chiaramente a violare il mio progetto, quindi non avrebbe molto più senso rimanere a mercato short, quindi domani mattina, se oggi dovesse verificarsi una cosa del genere, io chiudo, o attendo qualcosa qui, per chiudere, comunque chiuderei in questa zona qui, può, insomma, può avvenire questo, sicuramente sì, insomma, quindi non è da escludere, diversamente se il mercato qui viene giù, anche in questo modo, il mio trade rimane intatto, inalterato, non credo, cioè, se dovesse svilupparsi, diciamo, una vola del genere, come quella che ho appena disegnato, non faccio niente in termini di andare a spostare lo stop, sicuramente, magari dopo che rompe il ribasso, ritraccia, insomma, rifà qualcosa, probabilmente sì, magari mi sposto, adesso sono al 17.030, insomma, però, insomma, attendo, ecco, insomma, mi piacerebbe vedere un aumento di volatilità prima di spostarmi, non vedo adesso tutta questa esigenza, quindi diciamo che rimango al momento, rimango abbastanza in osservazione del mercato. Per quanto riguarda il target che avevo messo in realtà sul, 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 l'operazione nel, nel diario di trading, vediamo come in realtà, ehm, è un'operazione, allora, che, mh, prende spunto sicuramente da questa informazione settimanale, dove, eh, insomma, c'erano delle confluenze, soprattutto, a me piacciono questi due livelli, e chiaramente questo è un livello che vorrei vedere, eh, poi, abbattuto al, al ribasso, è molto probabile che, dovesse esserci la condizione di fare un incremento, io vado a prendere profitto, più o meno su, su queste zone, probabile, non lo so, vediamo, però è un mercato che dovesse effettivamente verificarsi, un momento di debolezza più importante, poi chiaramente ci avrebbe tutta quest'area qui, che è l'area di, eh, di acquisto, ehm, importante, dove, eventualmente, qualunque posizione short va, ehm, chiusa, però, insomma, dipende dagli orizzonti temporali, da quanto si sta rischiando, come, eccetera. Detto questo, ehm, quindi, questo era appunto il, il trigger operativo, io ho inserito questo target, non è, non è appunto, mandatorio. Perché lo faccio? Perché, mh, in questo momento, vista, eh, diciamo, vista la natura di questo trade, che è un trade che viene da, eh, questo ragionamento, siamo in una, appunto, struttura long, che, chiaramente, qui potrebbe fare una cosa del genere, venire un pochino giù, e poi, ricontinuare il suo long, nel, insomma, nel suo futuro, voglio gestirmela con calma, eh, anche in termini di take profit, per me questo non è mandatorio, andrò poi a gestirmela via via. Eh, arrivando un attimo sul daily, a ricordare anche a me stesso, quali erano eventualmente, le confluenze del trigger giornaliero, ovvero questo, esatto, che poi tra l'altro, esatto, qui, allora, in zona 16.000, in zona 16.000, lui ha, ehm, diciamo, la, l'estensione 261.8, il nostro T5, interessante, 16.000, sicuramente a livello importante, tondo, e poi, insomma, si vede come anche qui lui ha, eh, questa estensione, quindi, questo è il nostro T5, questo è il T6, il T7, in zona 15.000, 5.50, però non è, non è lì che, al momento, voglio, voglio arrivare, come dicevo, anche se ho il target impostato, eh, impostato in macchina, dovesse effettivamente il mercato, però, mostrare questa, questa intenzione, insomma, andrò a, eh, gestirmi, eh, gestirmi il trade di, eh, conseguenza. Eh, anche perché gli indici, spesso, quando, mh, quando aumentano la volatilità, ribasso, magari lo fanno, con, con violenza, se andiamo a vedere il, il DAX, quando da, dai massimi, ecco, vediamo, certe volte fa delle, candele molto, eh, molto importanti, e quindi, insomma, ho preferito lasciare, eventualmente, un take profit più ampio, per decidere, nel, nel quotidiano, quello che, eh, che voglio andare a fare. Quindi, non è, per quanto mi riguarda, non è, non è né giusto, né sbagliato, come, come al solito, insomma, rimango abbastanza, flessibile e aperto. Uno sguardo all'S&P, che è chiaramente un mercato correlato, che al momento, che cosa è successo? Ha chiuso, quindi una settimana molto forte, ha riaggiornato i massimi, proprio ieri, e, chiude con questa candela, di esaurimento, di volatilità, o comunque di, di esaurimento, dei long, almeno, al momento, e chiaramente, che cosa può succedere? Dovesse il prezzo tornare sotto questi livelli, sotto l'apertura di ieri, ma meglio, sotto al minimo, chiaramente, qui potrebbe innescarsi un minimo di ritracciamento. E, però, quello che, insomma, mi, mi ha colpito, eh, in generale, è che, eh, l'America, nelle ultime, sessioni, quando era forte, comunque, aggiornava, rompeva, insomma, dei livelli, eh, in questo caso, è stato forte, aggiornato dei, dei massimi, e, eh, il DAX è rimasto, eh, per così dire, debole, cioè, è stato correlato nella giornata, ma, eh, in debolezza, eh, cioè, confermando la sua debolezza, quindi, rimanendo sotto, sempre sotto queste, queste zone. Quindi, chiaramente, questo è un trend che gli lascia lo spazio al mercato di, di muoversi, mi lascia la possibilità di ragionare, poi di, eventualmente di intervenire con, eh, con, insomma, con le mie decisioni. Ecco, questo è, questa situazione adesso sul, sul mio trade, non ci sono grandissimi aggiornamenti, direi che rimango in attesa, a questo punto, di un'informazione, da parte del mercato, magari, tra oggi, domani, e quindi decidere se, mh, o chiudere, dovesse tornare in forza il mercato, oppure, invece, continuare nel, nel progetto, e mantenere l'operazione di trading. Bene, io ti ringrazio, per aver visto il video fino a questo punto, ti ricordo sempre che puoi commentare, il video, per farmi sapere se anche tu sei in posizione, se condividi questo, questo trade, se hai fatto dell'altro, e, se ti è piaciuto il video, nei contenuti, nel, nel trade, ti ricordo anche di lasciare, un mi piace, e condividerlo, sui, sui tuoi social. Quindi, per oggi è tutto, ti ringrazio, ti saluto, e ti auguro soprattutto, buon trading, alla prossima.